6 anni senza contratto significano impoverimento costante di centinaia e centinaia di migliaia di famiglie. I lavoratori del pubblico impiego rappresentano veramente quello strano e beffardo paradosso per cui in un paese in cui non è possibile toccare o scalfire le grandi ricchezze, le grandi ricchezze finanziarie, tutto il peso della lotta contro la crisi è stata messa sulle spalle dei ceti medi e dei ceti medio-bassi.